Se vi abiccerino in voi protestante perché il 15 novembre, in occasione dell'inaugurazione di Fico, l'Assemblea regionale verrà sospesa anzitempo, è così? Sì, è così. Questa è una delle tante vicende, oserei dire, surreali che girano intorno al PD e a Fico. Che cosa è successo? Ieri, durante la consuetta riunione dei capigruppo che precede l'Assemblea legislativa, il Partito Democratico si è espresso favorevolmente rispetto alla chiusura anticipata dei lavori. Quindi l'Assemblea di mercoledì pomeriggio non si svolgerà perché? Per permettere sostanzialmente al Consigliere del Partito Democratico di fare la propria passerella all'inaugurazione di Fico. Questo per noi non è accettabile. Chiaramente questa amministrazione ha avuto tante piccole attenzioni per quella che ricordo essere un'iniziativa commerciale privata, parliamo di Italy, quindi Farinetti e delle Copp, ed evidentemente è questa l'occasione per cercare di raggranellare e acquisire un po' di consenso che il Partito Democratico non riesce ad ottenere diversamente. Mentre nel frattempo noi vorremmo occuparci dei problemi della cittadinanza e delle piccole e medie imprese, che probabilmente saranno quelle più penalizzate dalla presenza di Fico, e lo stiamo già facendo anche attraverso il taglio dei nostri stipendi. Parliamo di 35 milioni di euro tra stipendi dei nostri parlamentari e dei consiglieri regionali che stiamo destinando a un fondo del microcredito destinato proprio all'apertura di nuove attività anche sul nostro territorio. Ok.